Cari quaddisti, eccoci! Sabato San Severino Marche, prova dell'Europeo Quadrosa, partecipante italiano che fa tutte le gare dell'Europeo, ricordiamo all'ultimo europeo, gara 1, seconda posizione Andrea Cesari, il nostro Andrea si è riproposto in questa prova italiana dell'Europeo Quadrosa, con delle ottime qualifiche e ha in testa come stato finale. Ho fatto tutto per tutto, cosa ne pensi di questa prova? Le qualifiche sono state abbastanza bene, però bene o male non sono riuscito a farmi un giro tirato, che avevo io. Comunque, sembra il tempo 5 e altro, da quanto mi andavo. Ehm, però, è un'altra storia, lo so chi e non so chi, quindi... Quanto ha nella... ...a Milano o... ...sinceramente non lo so, però... ...spero... ...un secondino, penso... ...un secondino... ...per... ...sì, a meno che non succeda qualcosa... ...però... ...spero... ...sì... 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 ...sono ottimista per domani. Proprio... ...sì... ...como stanno? Sì... ...sì... ... ...sì... ...sì... ... ...estava ancora bene... ...sono ottimista. ... ...pesso penso che vada molto bene. Oggi ti avevo visto bello sciolto guidare come sempre con uno splendido controllo della moto in salto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti